Per la seconda volta in vita mia, ho massacrato un immortale. Il premio? La Clissidra. Ora posso cambiare la storia. Il suo potere cosmico è spaventoso. Immagino cosa pensate delle ragazze di Beverly Hills, ma non ha il mio stile. La vita da prescelti la lascio a quelli come Yukander o Kitana. Nella prossima linea temporale voglio solo essere un soldato moderno. Vuoi dare la nuova generazione di forze speciali? Siamo nati per difendere il regno della terra. Come gli eroi che mi hanno ispirata. I miei genitori. Ok, avrei anche un altro desiderio. Riportare in vita mia madre. Non solo per me, ma anche per papà. Lui e mamma meritano di invecchiare insieme. Non sapremo mai qual era la situazione nella vita precedente, ma saremo insieme. Una famiglia. Ed è tutto ciò che conta.